Ai fatti citati si ricollega un fenomeno che più direttamente interessa, seppure in modo marginale e negativo, il mondo degli studi. Vogliamo alludere alla lunga serie di pubblicazioni pseudoscientifiche e dilettantistiche che sono apparse con singolare frequenza negli ultimi decenni e continuano ad apparire sugli etruschi, sulla loro civiltà e soprattutto sulla loro lingua. Tutti questi casi hanno in comune tra loro il preconcetto che i risultati e l'esperienza cumulatisi attraverso le ricerche storiche di molte generazioni abbiano, ai fini della conquista della verità, un valore secondario o nullo rispetto alla geniale intuizione di un individuo. ignorano i principi del metodo critico, in quanto tendono a trasformare le ipotesi in affermazioni, prescindendo dall'obbligo della dimostrazione. Si sbizzarriscono nelle conclusioni più fantastiche, la cui inconsistenza risulta, tra l'altro, dal fatto che esse di volta in volta si contraddicono radicalmente a vicenda. È un modo di affrontare i problemi storici e linguistici che ricorda la ingenuità e le bizzarrie della erudizione seicentesca e settecentesca e che, in un certo senso, rappresenta l'anacronistico perpetuarsi dell'etruscheria. Il fenomeno si inquadra nell'atmosfera suggestiva del mistero etrusco, come aspirazione a svelarlo miracolisticamente. Ciò che spiega la tendenza all'improvvisazione e la pretesa che certe clamorose affermazioni pseudoscientifiche hanno sovente sul grande pubblico, anche quando esse superano ogni limite di assurdità. Origini e parentele degli etruschi sono state cercate in tutti i continenti, perfino in America. Nel campo linguistico, al pregiudizio ancora largamente diffuso di una totale indecifrabilità dell'etrusco, corrispondono i periodici annunci della improvvisa scoperta di una chiave per leggerne i testi, con conseguenti effimere risonanze giornalistiche ed altrettanto rapidi oblii. Ciò determina senza dubbio un persistente disorientamento dell'opinione pubblica nei riguardi delle nozioni e dei problemi etruscologici, rendendo più difficile, ma senza dubbio più necessaria, l'opera esplicativa e divulgativa degli studiosi. Chi era con noi il 15 settembre scorso, quando abbiamo inaugurato questo ciclo di conferenze, introducendolo e anticipandolo, ha già ascoltato questo brano, ma non potevo fare a meno di riproporlo, sapendo anche che il pubblico sarebbe nel frattempo cambiato e potenzialmente variato, anche oggi in apertura di quella che a tutti gli effetti costituisce la prima conferenza di questo ciclo intitolato gli etruschi senza mistero. Le parole del padre dell'etruscologia, Massimo Pallottino, pesano davvero sulla responsabilità di chi come me si è formato da etruscologo e dei tanti studiosi che ogni giorno si spendono scavando e cercando di recuperare tracce di questa civiltà che è misteriosa per tanti motivi, ma il più banale, il più problematico è quello che si cela nella nostra incapacità di soffermare la memoria e l'attenzione su quelle che sono state nel corso del tempo le acquisizioni che ci hanno consentito di disvelare molti aspetti di questa civiltà. Ancora oggi io mi sento porre domande sicuramente legittime ma che avevano avuto una risposta 200 anni fa riguardo la decifrazione dell'etrusco, non c'è nulla da decifrare, l'ultima lettera dell'alfabeto etrusco che non si comprendeva è stata decifrata da Luigi Lanzi tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. La lingua etrusca pone sì problemi ma questi problemi sono legati alla sua interpretazione e cercheremo di vederlo nel corso di questa prima conferenza lasciando poi tutta una serie di ulteriori approfondimenti alle altre conferenze che seguiranno e che immagino voi conosciate grazie al programma che abbiamo diffuso. Ci saranno quindi anche oggi dei flash che poi verranno approfonditi al momento giusto ma ci soffermeremo su quanto le fonti, una parte delle fonti ci hanno fornito in merito al problema dell'origine degli etruschi e proveremo insieme ad analizzarle e vedrete poi come queste fonti confrontate con la documentazione archeologica in realtà siano state da tempo superate e le acquisizioni che consentono di penetrare il cosiddetto mistero delle origini degli etruschi affondano già sul finire dell'Ottocento le loro radici e poi nel corso del primo Novecento non ci sono state scoperte recenti che abbiano aggiunto qualcosa a quanto già si conosceva più di un secolo. Ma soffermiamo l'attenzione da persone appassionate che oggi pomeriggio ci hanno raggiunti così numerose nel museo su quanto a volte la stampa, i media soprattutto in tempi come quelli che viviamo attualmente ci sottraggiano rispetto alla comprensione del passato lasciandoci immersi in uno stato di incertezza che ogni volta queste stesse fonti tendono a cercare di far rinascere illudendoci di farci scoprire qualcosa lasciandoci invece nello stesso mistero in cui ci trovavamo prima ed è difficile purtroppo ed è davvero difficile superare questo tipo di barriere perché comunque viviamo soprattutto adesso in una società in cui l'informazione si consuma con una rapidità davvero impressionante e i social da me citati più volte nella pubblicità iniziale e che comunque in qualche modo sono diventati una fonte di informazione anche essi governano determinano e alterano, lo vediamo anche nel dibattito politico quotidiano figuriamoci nell'interpretazione di fatti storici così remoti ma non diamo nulla per scontato proviamo innanzitutto a dare qualche informazione di base su dove siamo e di cosa stiamo parlando ho scelto questa carta che è una carta presente su una delle fonti di informazione più diffuse wikimedia che fornisce un'immagine non corretta però sicuramente meritevole di commento di quella che è l'espansione raggiunta dagli etruschi vedete una zona colorata con un colore più scuro corrispondente alla cosiddetta etruria propria toscana e lazio settentrionale e poi la colorazione diventa meno intensa e si estende da un lato a coprire gran parte della pianura padana fino a spingersi quasi verso milano e poi verso sud si spinge senza soluzione di continuità fino alla campania e al salernitano in realtà di zone di discontinuità ve ne sono molte fra queste quella che sulla carta vedete contrassegnata dalla scritta latini lì gli etruschi sono sì arrivati ma per un breve periodo che quello della monarchia etrusca di roma invece è vero che gli etruschi si sono spinti fino alla pianura padana da un lato e alla campania dall'altro il discorso è complesso perché sappiamo dall'archeologia e dalle fonti alcune le vedremo insieme a breve di come si trattasse comunque di una società di una nazione frammentata fatta di città stato i cui confini naturalmente tendevano ad essere abbastanza fluidi a variare nel tempo anche per un spontaneo spirito di contesa fra una città etrusca e l'altra e le popolazioni confinanti questo è un punto su cui soffermare naturalmente l'attenzione a questa carta già nella introduzione del 15 avevo accostato la carta una carta molto semplificata di quelle che sono le regioni linguistiche della nostra penisola che mostrano una distribuzione delle parlate indigene in molti casi corrispondente anche a diversificazioni culturali che sono sopravvissute fino a noi questo è bello da mostrare e interessante perché mostra quanto sia attuale il nostro retaggio la nostra eredità preromana ancora oggi le regioni che dividono l'italia gli accenti che scandiscono le nostre differenze regionali l'alimentazione le peculiarità dei territori alcune espressioni religiose locali sono le sopravvivenze di un'eredità che va indietro fino a un'Italia preromana che è sopravvissuta nonostante la spugna sulla lavagna della dominazione romana questa è una cosa che lo vedremo poi esaminando a lungo il tema della fortuna degli Etruschi è stata osservata più volte da ultimo da D. H. Lorenz anzi da ultimo non è esatto dirlo ma forse nel modo più poetico evidenziando quanto nel nostro paesaggio nel nostro immaginario nel nostro DNA nel nostro modo di esprimerci nel nostro accento vi sia un'eredità etrusca i linguisti ancora oggi discutono con acribia sulla possibilità o meno che la gorgia toscana la aspirazione toscana abbia una radice nella parlata etrusca è un problema non ancora risolto e sul quale ci si sta confrontando ma a cosa alludeva pallottino e alludeva a questo tipo di pubblicazioni che ancora oggi hanno una diffusione maggiore rispetto a quella dei testi scientifici sono più letti più venduti e più diffusi anche sulle bancarelle è facile trovare tra i libri dell'usato pubblicazioni come queste tant'è vero che mentre le disdegnavo negli anni della mia formazione all'Università di Roma alla Sapienza da una decina di anni a questa parte ho cominciato anch'io a comprarle e penso spero nell'arco di qualche anno quando avrò completato la mia collezione di organizzare una bella mostra su tutti i libri che aspirano ad aver tradotto e interpretato l'etrusco uno dei più divertenti è un'interpretazione che nasce attraverso la consultazione sapete i tavolini dove si consultano entità più o meno astratte che avrebbe suggerito il codice per interpretare la lingua queste pubblicazioni che vengono da diversi luoghi da diverse persone che non si sono lette nemmeno le une con le altre che a volte attingono direttamente alle fonti che gli archeologi hanno cercato di costruire come il Corpus Iscrizionometruscaro un'opera iniziata nell'ottocento e ancora in via di completamento come tante opere complesse opera di archeologi che non si stancano mai di rivedere quello che avevano scritto poco prima e insomma pretendono di attingere alla fonte danno la loro interpretazione ma nemmeno loro tengono conto del loro simile di turno che ha dato la sua interpretazione e così come diceva Pallottino si aggiungono in dimostrate prove ipotesi teorie le une alle altre e chi cerca di dimostrarsi maggiormente degli altri intelligente o addirittura erede e discendente degli etruschi avrà fama breve ma intensa o vivrà anche di quella immarginazione nella quale alcune volte studiosi di questo tipo vivono sentendosi esclusi dall'archeologia ufficiale che è sempre ritenuta colpevole di nascondere le sue scoperte al grande pubblico c'è sempre qualcosa o qualcuno che vi dice che gli archeologi non vi hanno svelato tutta la realtà ve ne hanno tenuta nascosta una parte complotto complotto anche sull'origine degli etruschi e sulla decifrazione interpretazione della loro lingua questo è un tema interessante che perdo due secondi ad analizzarlo con voi dalla prospettiva di chi ha un gravoso compito nella divulgazione di questo popolo nel rendere questo luogo accogliente interessante nel farvi tornare nell'incuriosirvi a volte è vero che gli archeologi nascondono le proprie scoperte ma non è un nascondimento intenzionale è un modo di parlare e di comunicare specialistico che si presta poco all'attenzione delle persone comuni se io cominciassi a parlare con voi la lingua non l'etrusco non sarei in grado sia mai non sono un epigrafista ma la lingua specialistica che io ho appreso in università per descrivere tecnicamente un vaso per inquadrarlo cronologicamente voi smettereste di comprendermi voi mi guardereste probabilmente ammirati e interessati ma io non istituirei con voi nessun contatto se non quello di sentirmi superiore a voi soltanto perché domino una terminologia che ai più non dice niente o inocoe medio proto corinzia con la decorazione a intarsi vegetali tanto per dirne una a riba los etrusco corinzio si termini importanti ma vanno accompagnati va data la profondità storica e umana a questi concetti senza aver il timore che poi qualche tuo simile etruscologo potrà giudicare altrimenti si rischia di essere ritenuti depositari di un sapere che non viene condiviso e i musei vengono ritenuti luoghi chiusi più simili a prigioni che a luoghi che possono in qualche modo sollecitare il dilento c'è chi ha cercato la decifrazione la scoperta l'interpretazione dell'etrusco nell'ungherese pubblicando anche in case editrici rilevanti o chi come quello che è stato il mio professore di epigrafia italica il celebre almeno per me romolo augusto staccioli che per tanti anni è insegnato alla sapienza il cui libro apparso nella newton compton gioca sul mistero virgolettandolo io mi immagino l'editore si è concentrato su un titolo del libro che doveva vendere questa è una collana stupenda uscita negli anni 70 contesti di altissimo livello e amplissima diffusione oggi non sarebbe possibile immaginarla nemmeno una collana del genere diffusa dalla newton compton che è una casa editrice di cui frutti li trovate anche in una normale edicola dietro l'angolo di casa perché la società è cambiata oggi ero su Rai 2 ospite di una trasmissione che ragionava sui musei e ho cercato nei due minuti che avevo a disposizione di dare un elemento perché il numero di visitatori del museo di Villa Giulia fino alla fine degli anni 90 inizio degli anni 2000 arrivava vicino ai 90.000 quasi 100.000 non li ha mai superati e perché dopo questa data è sceso a 60, 70, 75.000 perché è avvenuta una rivoluzione nell'istruzione scolastica gli etruschi sono scomparsi dall'insegnamento nelle medie è venuto meno un terzo del nostro pubblico in fase di formazione basta questo a ragionare su come la società cambia dalle sue radici i giovani dalle elementari alle superiore e di conseguenza anche i loro genitori i loro nonni l'intera società perché di etruschi non si parla più lo spazio che viene loro dedicato nella formazione giovanile storia dell'arte e non solo storia antica e quant'altro è praticamente nullo e paradossalmente una delle civiltà più complesse da comprendere ma anche più interessanti e più affascinanti da molti viene studiata soltanto alle elementari quando forse più difficile capirla cosa ne rimane di tutto questo e cosa possiamo fare noi direttori dei musei per recuperare questo gap di cui non siamo responsabili e questo è davvero difficile ci stiamo trovando probabilmente se porterete i vostri bambini domenica o se qualcuno di voi ha partecipato ad altre nostre iniziative magari saranno loro a trascinarvi di più in museo altri libri importanti sul tema degli etruschi siamo saliti di livello ma vedete come il problema rimane attuale e soprattutto però nelle pubblicazioni magari più divulgative dove questo mistero emerge in ogni titolo gli etruschi è il loro mistero gli etruschi il mistero svelato e finacco una edizione di pallottino degli anni 50 anima in lingua degli etruschi un mistero che va svelandosi niente non c'è nulla da fare mistero ed etruschi camminano insieme per cui benvenga etruschi senza mistero e recentemente sono stato contattato da un editore per scrivere un manuale intitolato gli etruschi senza mistero non so come farò ci proverò le origini degli etruschi invece uno dei testi di più alto livello che si è occupato del problema di cui oggi noi cerchiamo di parlare in questa sede nel tempo che abbiamo a disposizione è un libro molto bello scritto a più mani da autori di alto rilievo e respiro parte dai temi della fortuna tocca quelli della linguistica si sofferma anche sulla genetica ha un problema di accessibilità economica perché costa tanto costa tanto anche per le biblioteche eppure questo è un problema a tutti gli effetti di accessibilità avete visto in questa rapida introduzione in cui vi ho mostrato molte copertine di libri come si ruoti intorno ad un mistero che affonda le sue radici come vedremo in tante fonti che lo hanno discusso e ho voluto anticipare degli elementi rispetto a quelli della tradizione per darvi delle suggestioni una delle cose che colpisce ancora oggi gli archeologi io sono stato di recente di nuovo a Louvre e ho potuto ammirare le vetrine dedicate ai materiali archeologici dell'area anatolica nota come regno di Urartu che si trova più o meno qui ed effettivamente si rimane impressionati da alcuni oggetti naturalmente uno specialista in particolare i bronzi su come appaiano effettivamente degli oggetti come questi molto simili a quelli che troviamo nel nostro museo e in contesti etruschi in alcuni casi si tratta di importazioni o di imitazioni che gli etruschi già avevano fatto di materiali provenienti da queste zone in altri casi la distanza è tale da porre effettivamente un problema e da indurre alcuni a pensare che questo problema possa essere risolto sulla base di un'ipotesi interpretativa semplice una migrazione di popoli ma soffermatevi su questa immagine degli individui alati noi siamo abituati grazie alla tradizione cristiana a figurarci gli angeli o ancora oggi siamo fedeli di una religione che affonda le sue radici in un'antichità orientale popolata di miti che a loro volta fondano più indietro nel tempo di quanto siamo soliti pensare vi è un immaginario che il mondo orientale ha trasmesso a quello occidentale a partire dalla grecia in modo estremamente potente pensate alla saga di Gilgamesh il Noè, il Deucalione, colui che si salva dal diluvio, ne avrete forse sentito parlare e ricorderete quante affinità questa saga abbia con i miti che più o meno spontaneamente si sono in varie parti del mondo generati per raccontare una tragedia universale che è quella del diluvio, di uno tsunami che qualunque uomo può riscontrare trovando un fossile e interrogandosi sulla sua origine laddove gli ambiti geografici sono lontani non è possibile pensare ad un'influenza reciproca laddove gli ambiti sono vicini c'è un processo di trasmissione e guardate che è incredibile pensarlo ma funziona in modo molto simile ai nostri social network e con una rapidità altrettanto potente come solo la comunicazione umana può raggiungere la diffusione di un mito se evoca immagini forti, se attinge le sue radici in un patrimonio comune si diffonde con una rapidità e con una potenza incredibile fra pochi giorni noi andremo a vedere l'ottavo episodio della saga di Guerre Stellari non so se molti di voi hanno riflettuto se amano questa tipologia di film su quante radici abbia in un immaginario mitico che è antropologicamente universale affonda le sue radici su immagini di gemelli che si svelano e si scoprono l'uno con l'altro a distanza vengono ammaestrati da un maestro strano, Yoda, uno Jedi, un mostriciattolo piccolino ma che invece ha una grande potenza c'è dietro queste favole un immaginario universale, archetipico che la stessa saga come Lucas ci ha svelato la stessa saga di Guerre Stellari nasce da un'analisi dei miti archetipici dell'uomo ed è stata costruita imitando tanti miti diversi e mettendoli insieme e fondendoli questo è un agire comune e non c'è nulla di strano nell'immaginare una società forte sul piano delle immagini e dei racconti come quelle del Vicino Oriente che hanno influenzato progressivamente e diffuso i loro miti se andate a leggere Esiodo, se andate a leggere alcuni passi di Omero, quindi le radici della nostra letteratura occidentale trovate ancora un brodo primordiale di miti che sono molto vicini a racconti di ambito etita di ambito assiro e via dicendo non solo cultura materiale ma anche altro e poi lì è il tema dell'arcaismo trionfante qui a Villa Giulia grazie all'arte ionica e a capolavori come il Sarcofago degli Sposi l'Apollo di Merio, sono immagini di mondi, di opere d'arte che ci conquistano spesso non sappiamo nemmeno il perché e che parlano di un linguaggio effettivamente particolare che agli occhi di un greco non poteva non rivelare un'origine orientale ma vi sono delle profonde radici storiche che spiegano questo fenomeno e che io più volte mi diverto a raccontare nelle sale del nostro museo nello spazio che separa il Sarcofago degli Sposi dalle lamine di Pirgi queste suggestioni messe insieme in modo acritico sovrapponendo un dato all'altro e senza andare ad approfondire quella che è la fatica degli studiosi che hanno accumulato nel tempo informazioni consente di divulgare affinità fondate su elementi che possono sembrare simili ma che in realtà sono soltanto influenze apparenti perché una tazza signori miei è una tazza tendenzialmente andrò a farla più o meno nello stesso modo così come una scodella così come un poppatoio perché le mie mani sono queste la mia bocca è questa bere e mangiare sono funzioni comuni a tutti e almeno che io non sia un essere alieno ho bisogno di utilizzare oggetti che l'uomo tendenzialmente andrà a costruire in modo affine vi sono poi altre manifestazioni stilistiche artistiche che meritano maggiore osservazioni maggiore riflessione ma se noi andiamo a costruire le nostre teorie sulle migrazioni sulle reciproche influenze fra una società e l'altra a partire da documenti abbastanza comuni rischiamo davvero di incorrere in gravi errori lì a sinistra vedete seminascosti delle urne a capanna una è quella celebre di Vulci in lamina metallica e l'altra è una capanna che potrebbe venire dall'ambito etrusco o latino non so se voi sapete che nella Scandinavia in un periodo che più o meno coincide anche con quello in cui vennero utilizzati questi cinerari nella nostra penisola venivano utilizzate urne a capanna molto simili ma non è necessario evocare una simile influenza è una concezione normale per tutti quanti noi che ci vogliamo proteggere ed ingannare di fronte alla morte nell'immaginare la casa dei resti mortali come una casa perché vogliamo aspiriamo tutti tutti a vivere in eterno non vogliamo morire e quindi la morte non è altro che una transizione verso una nuova casa e quindi anche un oggetto complesso come un urna a capanna a volte non serve per svelare il problema sulla base di contatti più complesso e forse meritevole di riflessione sarebbe il tema della ruspicina visto che nel mondo vicino orientale è attestata l'interpretazione del futuro della volontà divina attraverso le viscere degli animali ma anche questa tecnica divinatoria è più diffusa di quanto noi pensiamo ma andiamo alle fonti e forse questa non ve l'aspettavate salvo quanto vi ho accennato poco fa è un brano celeberrimo della Genesi rileggiamolo insieme ora i figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Japheth e Cam e il padre di Canaan questi sono i tre figli di Noè e da loro fu popolata la terra notate l'uso dei tempi verbali da me messi in corsivo questa è la discendenza dei figli di Noè Sem, Cam e Japheth dopo il diluvio allora nacchero dei figli da essi vennero i popoli sparsi nelle isole delle nazioni nei loro diversi paesi ciascuno secondo la propria lingua secondo le loro famiglie nelle loro nazioni queste sono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro generazioni nelle loro nazioni e da essi uscirono le nazioni che si sparsero per la terra dopo il diluvio è chiaro che un testo rivelato, un testo sacro che ci racconta la storia dell'umanità su basi così solide sono, uscirono, diversi popoli, tre figli, gli unici superstiti dopo il diluvio tu hai la necessità di ricondurre tutto il conosciuto all'interno di questa base che in quanto rivelata non può essere contraddetta e la Genesi poi ci racconta l'episodio di Babbele per spiegare come una punizione divina la diversificazione delle lingue guardate che questi testi così importanti, così radicati nella nostra esperienza comune sono stati il problema che gli studiosi per generazioni hanno dovuto cercare di superare per arrivare a capirci qualcosa di quella storia che non riuscivamo più a contenere entro i limiti del conosciuto biblico perché la Bibbia, lo ha scoperto un Usher nel 1620 o giù di lì la terra secondo la Genesi o l'Adamo ed Eva potevano essere datati esattamente a un giorno di ottobre del 4004 a.C. sulla base del racconto biblico non vi era spazio per un prima e per generazioni hanno dovuto confrontarsi con questo limite oggettivo e naturalmente nel corso del tempo e ragionando sulla fortuna degli Etruschi lo vedremo molto bene non si è potuto fare a meno che ricondurre a queste genealogie anche quello che un'altra tradizione quella classica, quella pagana, affermava riguardo le dinastie dei Retroiani gli antenati e i capostipiti degli Etruschi e via dicendo tutti dovevano rientrare nella stirpe di Noè e Kircher, il Gesuita, parte delle cui collezioni sono qui esposte nel nostro ballatoio siamo tra gli eredi di Kircher, tra i musei che hanno ereditato questi beni pur essendo un Gesuita quindi quanto di più alto poteva esservi sul piano dell'intelligenza dei prelati del 600 si confrontò con le testimonianze del diluvio che agli occhi di molti apparivano sotto forma di fossili a testimoniare l'esistenza di un fatto narrato dai testi rivelati e di cui si trovava riscontro in molti altri testi bisognerà aspettare l'800 per capire le cose come andavano quell'800 scandito dal positivismo che nel cancellare l'interpretazione letterale dei testi rivelati però cominciò a generare altri mostri che fondavano le loro radici sulle teorie evoluzionistiche e quindi una genesi dell'uomo dalla scimmia e quindi un Adamo diverso da come ce lo eravamo immaginato ma che hanno prodotto una sorta di riflessione che si è fondata su presupposti etnici e razziali altrettanto pericolosi nei quali andavano a coinvergere anche le teorie linguistiche che si formano sul finire dell'800 creando una genealogia fra le lingue parlate e note nasce il concetto di lingue indoeuropee in questo periodo e l'immagine della cultura da un lato quella biologica dell'uomo dal lato quella linguistica spesso assumono la forma di alberi e per spiegare il modo in cui i rami di questi alberi si sono formati e divaricati non si poteva fare a meno che ragionare in termini di migrazioni di popoli popoli che le cui tracce venivano ricercate non soltanto nelle testimonianze della cultura materiale ma anche nella forma dei crani la craniologia nasce anche per risolvere problematiche storiche e tra i craniologi esperti d'italia uno precocissimo uno dei primi detentori di una cattedra di antropologia fisica ma all'epoca si fondeva anche con l'etnografia Giustiniano Nicolucci scrisse un testo sull'antropologia dell'Etruria sul finire degli anni sessanta dell'800 ma il passo per arrivare ad aberrazioni che hanno segnato la storia più drammatica del nostro passato era breve Gustav Cossinna, archeologo e linguista, è uno dei teorici di quelle tesi che sono alla base dell'idea di una nazione ariana e delle pretese che su di essa vennero fondate dal nazifascismo l'idea di una razza superiore, originaria, perfetta con una origine in un luogo che doveva essere riconquistato e sulla base di queste pretese che vertevano su presupposti qualitativi la superiorità di una razza sull'altra sono tanto vicine a noi questi pregiudizi quanto pericolosi perché ancora oggi li leggiamo più o meno consapevoli sulle pagine dei nostri quotidiani o nei talk show delle nostre televisioni il passo per guardare uomini apparentemente diversi da noi con occhi di superiorità e davvero vicino e a volte l'archeologia, la ricostruzione storica e la storia antica forniscono dei pericolosi strumenti delle armi oserei dire per veicolare idee come queste raccontano i lidi che i giochi in voga presso di loro e presso i greci furono una loro invenzione avvenuta all'incirca al tempo della colonizzazione da parte loro della Tirrenia regnando infatti il re Atis figlio di Manes una grave carestia colpì tutto il paese i lidi per 18 anni tollerarono il male ricorrendo appunto ai giochi dei dati e della palla eccetera per un giorno intero giocavano per dimenticare la fame e il giorno seguente si nutrivano ma non cessando la carestia anzi divenendo sempre più insopportabile il re divise i cittadini in due parti sorteggiando una metà perché restassero nel paese e l'altra metà per emigrare sotto il comando di suo figlio Tirreno questi scesero a Smirne dove costruirono navi e dopo averle caricate delle vettovalle necessarie al viaggio partirono in cerca di nuove terre finché oltrepassati molti popoli giunsero presso gli Umbri e là fondarono città e tuttora vi abitano e dal loro condottiero si chiamano Tirreni il mistero delle origini degli Etruschi Tirreni il termine greco con cui sono disegnati da Erodoto nasce con il padre della storia e nasce attraverso un racconto pieno di dettagli vengono fatti nomi precisi discendenze luoghi anni non può non essere giusto quello che racconta il padre della storia sulla base di racconti che sembra aver sentito in prima persona e in questi racconti si fondono invenzioni che effettivamente sono degli Etruschi la tromba e probabilmente alcuni giochi come il gioco dei dati da dove sarebbero partiti Erodoto ce lo racconta dalla Lidia è difficile comprendere il quando che è un quando che si ricostruisce sulla base del contesto in cui questo racconto si pone ma Erodoto scrive una cinquantina di anni dopo un evento che lui stesso descrive nei dettagli la battaglia di Aleria, la battaglia del mare sardo tra focesi, etruschi e cartaginesi una battaglia che determinò le sorti del Tirreno stabilendo una divisione di questo mare in cui gli Etruschi avevano dato il nome in due sfere di influenza fra i due perdenti, così ci dice Erodoto etruschi e cartaginesi alleati e tra i focesi che avevano vinto ma erano rimasti così in pochi da dover rinunciare alla loro volontà di colonizzare nuove terre in Corsica in questo racconto storico si cela in parte un elemento che può aver suggestionato Erodoto ovvero la trasmigrazione in questo contesto storico di genti come i focesi che avevano colonizzato le coste della Ionia dell'Asia minore fondando una città che si chiamava Focea e che scacciati dall'avanzata dei Medi e dei persiani cercano rifugio in occidente dove avevano già fondato loro città Marsiglia, Aleria e non solo dietro questa vicenda vi è una grande battaglia marina la più grande e la più antica nota dalle fonti ma vi è la storia di una migrazione in massa di genti che vengono anche accolte fra gli etruschi e agli etruschi trasmettono la loro arte al punto da essere così potenti espressivamente da far apparire gli etruschi 50 anni dopo come dei liti agli occhi indiretti delle fonti utilizzate da Erodoto il discorso è molto complesso e credo che riaffiorerà altrove nel nostro racconto i Tirreni dunque sono conosciuti presso i romani con i nomi di Etrusci e di Tusci i Greci li chiamano Tirreni da Tirreno figlio di Ati in quanto quest'ultimo aveva inviato dalla Lidia alcuni coloni in questa zona infatti Ati discendente di Era Cleofale in seguito ad una carestia eccetera eccetera riprende il passo di Erodoto la fonte di Strabone e Erodoto una volta giunto in questi luoghi Tirreno chiamò il paese Tirrenia dal proprio nome fondò dodici città assegnando loro come capo Tarconte dal quale prende il nome la città di Tarquinia e di cui si racconta per la sua perspicacia che nacque Canuto su questo punto torneremo nella penultima delle conferenze a questo tempo dunque i Tirreni governati da un solo capo erano assai potenti più tardi sembra che la loro confederazione si sciolse e cedendo alla violenza dei vicini essi si divisero in singole città infatti abbandonata una terra fertile non si sarebbero volti al mare dati alla pirateria rivolgendosi chi a un mare chi all'altro quando avendo le loro forze unite questo è il tema della frammentazione in città stato potevano non solo difendersi contro chi li attaccava ma anche attaccare a loro volta e fare grandi spedizioni e questa è un'immagine di Tarconte come emblema del fondatore di Tarquinia in un monumento conservato ai Vaticani si dice che anche le insegne dei trionfi e quelle dei consoli in generale dei magistrati furono portati a Roma da Tarquinia e così pure i fasci, le asce, le trombe, i riti sacrificali e la divinazione e tutta la musica di cui fanno uso in Roma nelle pubbliche manifestazioni emerge un'analogia con il testo di Erodoto, la fonte più approfondita e questo è uno dei fulcri della fortuna e dell'eredità degli Etruschi documentato abbondantemente da ritrovamenti archeologici da ultimi questi straordinari effettuati a Tarquinia dimostrati dalla tromba litua al centro e poi altri oggetti rilevanti altra fonte di epoca augustea prima della dominazione romana la potenza etrusca si estendeva ampiamente per terra e per mare i nomi dei due mari, superiore e inferiore da cui l'Italia è incinta a guisa di un'isola, offrono una testimonianza della loro potenza poiché l'uno le popolazioni italiche chiamarono mare tosco nome comune all'interagente e l'altro adriatico dalla colonia etrusca di Adria i greci li chiamano pure Tirreno e Adriatico si stabilirono nelle terre che si stendono fra entrambi i mari fondarono dapprima 12 città nella regione tra l'Appennino e il mar Tirreno e poi mandando al di là dell'Appennino altrettante colonie quanto erano le città di origine occuparono così tutta la regione al di là del Po fino alle Alpi eccettuato l'angolo abitato dai Veneti Tito Livio era originario di Padova intorno all'estremità del mare Adriatico anche alcune popolazioni alpine sono senza dubbio di origine etrusca soprattutto i reti, la natura stessa dei luoghi poi di barbari al punto che non mantennero alcune delle caratteristiche antiche se non il dialetto e anche questo corrotto e adesso veniamo alla fonte più complessa stratificata e articolata che vi sia sugli etruschi e sulla loro origine è un retore, un filosofo, siamo sempre intorno all'età augustea vedete la cronologia Dionisio o Dionigi di Alicarnasso nelle antichità romane ci fornisce un'immagine molto complessa e articolata della storia di Roma come solo un greco poteva fare si dice che i più antichi abitatori della città che ora è abitata dai Romani, Roma e che domina la terra e il mare siano i Siculi e cioè una popolazione barbara e autoctona nessuno invece è in grado di affermare con certezza se prima di costoro questa città fosse occupata da altri o fosse disabitata il popolo degli aborigini ne prese possesso dopo lunga guerra dopo averla strappata ai precedenti possessori essi dapprima vivevano sui monti senza difese murarie e sparsi per villaggi ma quando i pelasgi si mescolarono a loro e alcune altre popolazioni greche li aiutarono nella guerra contro le genti confinanti scacciarono la stirpe Sicula dal suo territorio fondarono fortificazioni e attuarono la sottomissione di tutta l'area compresa tra i due fiumi Liri e Tevere questi popoli rimasero nella loro sede e non vennero mai scacciati da altri assunsero nomi diversi in due occasioni sino alla guerra di Troia conservarono la vecchia denominazione di aborigini ma durante il regno di latino che regnò nel tempo della guerra di Troia cominciarono ad essere chiamati latini Dionigi di Alicarnasso ci sta raccontando la storia dell'origine dei latini ovvero dei romani e non lo fa senza malizia questa è l'estensione descritta da Tito Livio fino a Liri attenzione alcuni affermano che gli aborigini da cui derivava la stirpe romana erano autoctoni dell'Italia cioè indigeni altri invece dicono che genti senza dimora nomadi provenienti da diverse regioni si trovarono casualmente fra loro nello stesso luogo e fissarono la loro residenza in luoghi fortificati vivendo di scorrerie e pastorizia altri narrano invece che gli aborigini erano coloni dei libri eccetera i più dotti degli storici romani attenzione i più dotti quindi sono sicuramente i più attendibili dicono che questi primi abitatori erano greci di quelli che un tempo occupavano la Caglia ed erano emigrati molte generazioni prima della guerra di Troia ma in realtà non distinguono né la stirpe greca della quale facevano parte né la città dalla quale si mossero nell'epoca né il condottiero di tale fondazione e neppure per quali circostanze lasciarono la madrepatria se la versione di questi ultimi è attendibile non sarebbero coloni di stirpe diversa da quella che ora è chiamata Arcade tutto ci riporta al Peloponneso ma è fantastico la mentalità greca per i greci un'origine meritava di essere definita come tale soltanto se vi erano alcune coordinate irrinunciabili un'identificazione della stirpe di origine della città da quale provenivano questi coloni il ragionamento è facile doveva esistere una città da cui si è ripartito un popolo che fonda un'altra città il problema è che quando sono avvenute queste cose non esisteva nemmeno il concetto di città quindi come avrebbe potuto esistere una città da cui traeva origine un'altra città ma su questo Dionicida di Carnasso non poteva riflettere per lui che aveva in mente il modello di colonizzazione descritto da Tucidide con un anno di fondazione, un luogo di provenienza, una stirpe di origine e un fondatore quello era l'unico modo di intendere una nuova città, un nuovo popolo, una nuova colonia era inesplicabile tutto il resto e quindi lui ragionando in termini attualizzanti giudica i più dotti dei romani che ragionavano invece in un altro modo ma dicevano una cosa che a Dionigi interessa che gli aborigeni erano di origine greca e di conseguenza anche Roma era di origine greca e ad un greco questo interessava molto io penso che gli enotri si siano impadroniti di molti territori del resto d'Italia occupandone alcuni deserti, altri invece scarsamente abitati e inoltre penso che abbiano diviso una parte del territorio degli Umbri e che abbiano preso il nome di aborigeni per il loro stanziamento sui monti, Oros in greco e il monte è quindi facile etimologia per spiegare l'origine venivano dai monti, anche il comparativismo etimologico le spiegazioni pare etimologiche sono una delle strumenti utilizzati per spiegare la realtà ma senza alcun presupposto storico e come spiegare la vostra origine andando a interpretare il vostro nome io mi chiamo Valentino e quindi vi lascio riflettere sulla mia origine ancor peggio il mio cognome inizio non so che cosa potete fare ma questo era il modo di interpretare e qui entra un altro protagonista nella nostra storia il più difficile, il più sfuggente di tutti i Belasgi, stiamo leggendo sempre Gionigi di Alicarnasso e vi faccio riflettere che alle 6 e 10 di un pomeriggio di giovedì voi siete in un museo, fa molto caldo, se volete possiamo aprire anche le finestre e state ascoltando il direttore di un museo autonomo che vi legge Gionigi di Alicarnasso tutto questo è splendido in seguito alcuni tra i Belasgi che occupavano quella che ora si chiama Tessaglia costretti a lasciare la propria patria si stanziarono assieme agli aborigeni e con loro combattevano contro i Siculi gli aborigeni li avevano accolti sia in quanto nutrivano la speranza di ricavarne un vantaggio sia come io sono persuaso soprattutto per ragioni di consanguineità quella dei Belasgi era infatti una stirpe greca di nuovo non poteva esistere niente che non fosse di origine greca che anticamente proveniva dal Peloponnesio quindi erano vicini, parenti erano passati attraverso numerose vicissitudini di varia natura e particolarmente per il loro modo di vita girovago senza fissa dimora e senza poter fare riferimento ad un luogo sicuro in un primo tempo essi abitavano una regione presso Argo Achea come ora viene chiamata ed erano autoctoni rispetto a quella regione presero inizialmente questa denominazione dal re Belasgo ma nella sesta generazione furono a loro volta scacciati dalla Tessaglia da pureti e leleggi popolazioni che ora si chiamano Etoli e Locresi alla guida dei loro nemici vi era Deucalione il Noè nell'interpretazione greca del mito del diluvio universale un po' di mappe che vi fanno vedere dove sono i luoghi citati da Dionisio di Alicarnasso i pelasgi si dispersero nella fuga alcuni raggiunsero Creta mentre altri si impadronirono di qualcuna delle isole Cicladi alcuni si stabilirono nel territorio presso l'Olimpo altri invece si portarono nella Beozia, la Focide e l'Eubea coloro che si erano diretti verso l'Asia occuparono molti territori lungo la costa dell'Ellesponto così pure molte isole prospicenti la costa fra cui l'attuale isola di Lesbo la maggior parte di essi trova un rifugio nell'interno presso gli abitanti di Dodona loro consanguinei contro i quali come abitatori di una città santa nessuno avrebbe pensato di muovere guerra in questa città essi si fermarono per un tempo ragionevole ma quando si avvidero di essere dannosi per gli abitanti in quanto la terra non era in grado di nutrire tutti quanti lasciarono la regione accogliendo l'ordine dell'oracolo di navigare alla volta dell'Italia che allora si chiamava Saturnia guardate quanto ramificata è la diaspora dei Pelasgi allestirono numerose navi e si diressero verso lo Ionio mettendo cura di raggiungere le regioni più prossime dell'Italia ma a causa dei venti meridionali e della scarsa conoscenza dei luoghi essi furono portati oltre e ormeggiarono presso una delle foci del fiume Po di nome Spina qui lasciarono la flotta e la parte della gente che era meno in grado di sostenere gravi sforzi fisici notate i dettagli che nella mentalità dello storico rendono più fedele la narrazione lasciando un presidio sulle navi per garantirsi una possibilità di fuga nel caso in cui l'impresa non fosse loro riuscita quelli che erano rimasti nella regione di Spina circondarono l'accampamento con una cinta e rifornirono le navi di vettovagliamenti quando parve loro che le faccende si mettessero bene fondarono una città che aveva lo stesso nome della foce del fiume ebbero poi buona fortuna molto più che tutti gli altri abitanti delle coste ioniche affermandosi per molto tempo come i più potenti sul mare e furono in grado di portare al santuario di Delfi decime splendide quant'altre mai ricavate dalle loro attività marinare stupendo noi grazie all'archeologia sappiamo che Spina nasce alla fine del VI secolo a.C. che è vero possedette un tesauros a Delfi dove poteva consacrare ad Apollo le proprie decime ma non vi è alcuna traccia di una Spina più antica né tanto meno di queste poderose mura a meno che non fossero fatte di legno ma questo già Erodoto poteva saperlo di quanto fosse recente questa città nata proprio come conseguenza di quella battaglia di Aleria che avendo chiuso il Mediterraneo Meridionale ai Tirreni aveva costretto gli Etruschi a inventarsi una diversa strategia per i loro commerci e per le loro politiche deviare sull'Adriatico fondare una città in modo molto coraggioso sul mare sul delta del Po in modo da controllare tutto l'Adriatico e raggiungere Atene da un lato e controllare quella straordinaria autostrada commerciale che era il Po ma tutto questo avviene storicamente in un momento molto avanzato rispetto a quando si vuol far pensare cioè prima della guerra di Troia che sarebbe come dire prima del 1200 a.C. in un contesto mediterraneo che è già storico noi archeologi questo lo sappiamo bene e io personalmente ho avuto l'opportunità di lavorare molto a lungo al Museo di Ferrara essi furono dove sono conservate le antichità di Spina essi furono poi combattuti con grandi schieramenti di forze dai barbari, solo barbari possono essere i non greci che abitavano nelle zone vicine furono costretti ad abbandonare la città questi barbari a loro volta furono in tempi successivi scacciati dai romani così dunque scomparve la stirpe dei pelasgi che si era stanziata a Spina quei pelasgi invece che avevano diretto la loro marcia verso l'interno superarono la zona montagnosa dell'Italia e giunsero la regione degli Umbri che erano confinanti degli aborigeni ci sta portando in viaggio nella penisola attraverso i miti e sta per coronare il suo desiderio interpretativo fondendo quello che era un problema attualissimo del mistero dell'origine dei pelasgi con il problema dell'origine dei latini e degli aborigeni l'epoca nella quale i pelasgi cominciavano a decadere fu all'incirca la seconda generazione prima della guerra di Troia 1300-1350 avanti Cristo quando sta per finire nel nord Italia la cultura terra maricola la civiltà delle terra mare e si protrasse anche oltre di essa finché questo popolo si ridusse al minimo e salvo Protone che oggi tutti siamo d'accordo nell'interpretare come Cortona l'importante città dell'Umbria e qualche altro centro fondato nel territorio degli aborigeni le rimanenti città pelasgiche perirono numerosi popoli occuparono poi le città dopo l'abbandono dei pelasgi rispettivamente quelle di cui erano confinanti ma furono soprattutto i Tirreni ad occupare le più grandi ed importanti i Tirreni e qui di nuovo ha bisogno di spiegarci le origini di un altro popolo il suo racconto sta toccando una dopo l'altra tutte le popolazioni dell'Italia preromana i Tirreni vengono da alcuni considerati autoctoni da altri invece una popolazione immigrata i sostenitori dell'autoctonia tirrenica fanno derivare il nome dei Tirreni da quello delle fortezze che prima tra gli abitanti della regione costruirono Tiurseis si chiamano infatti presso i Tirreni così come presso i Greci gli edifici con muri e tetto i sostenitori della tesi dell'immigrazione facendo riferimento alla leggenda affermano che fu Tirreno il capo della colonia a dare il suo nome a questo popolo egli era Lidio di Stirpe eccetera eccetera ritorna Erodoto Dionigi non poteva trascurare la fonte primaria Erodoto Lido rimasto nella sua patria assunse il regno paterno da lui si denomina Lidia la regione Tirreno con cui sto a capo della comunizzazione ampie zone dell'Italia da lui presero il nome di Tirreni partecipanti alla spedizione questa è una fonte una versione simile a quella di Erodoto ma con particolari diversi e lui li approfondisce ma e qui diventa per noi una fonte inestimabile aggiunge informazioni tratte da fonti completamente disperse tutto quello che sappiamo quasi di Xanto di Lidia lo sappiamo da questa citazione Dionigi dimostra con grandi acume e acribia la disponibilità ancora in epoca augustea di fonti di 500 anni più antiche so che molti altri storici hanno dato questa versione sulla stirpe dei Tirreni alcuni negli stessi termini altri invece differenziandosi riguardo ai modi e ai tempi di questa colonizzazione Xanto di Lidia in nessun punto della sua storia parla di Tirreno Diamine uno storico che viene dalla Lidia come mai non parla di Tirreno come un signore dei Lidi e non sa di una colonizzazione di Meoni che avrebbero occupato l'Italia e l'anico di Lesbo dice che i Tirreni prima si chiamavano Pelasgi attenzione e che presero il nome che ora hanno dopo essersi stanziati in Italia egli fa nel Foronide questo discorso Frastore fu figlio di Pelasgo da questi discese Nanas durante il regno di questo i Pelasgi furono scacciati dal loro paese dai Greci e lasciate le loro navi presso il fiume Spinete nel golfo Ionio presero Crotone una città dell'interno e partiti di lì occuparono quella che noi ora chiamiamo Tirrenia Mirsilo sui Tirreni espone l'inverso rispetto all'anico e afferma che i Tirreni lasciata la loro patria assunsero nel corso dei loro spostamenti senza metafissa il nome di Pelargi a somiglianza degli uccelli chiamati Pelargi poiché come questi migrarono a stormo per la Grecia e le regioni barbariche essi avrebbero anche innalzato il muro di cinta che circonda l'acropoli il cosiddetto muro pelargico che era sotto gli occhi di tutti e se voi oggi andate a farvi un giro intorno alla base dell'acropoli di Atene questo muro ancora lo vedete custodito e quasi nascosto dalle mura più recenti dell'acropoli ed è un muro poligonale imponente antichissimo in una zona dove sono state trovate testimonianze di un passato preclassico molto remoto dove erano grotte luoghi legati al culto e qui il mito dei Pelargi Cicogne si fonde con quello dei Tirreni in realtà sbagliano a mio avviso tutti quelli che sono convinti dell'unicità e coincidenza tra stirpe Tirrenica e Pelargica non è infatti strano che talora una stirpe sia propri del nome di un'altra il che si è già verificato per altre stirpe sia greche che barbare come ad esempio tra Troiani e Friggi gli stessi popoli dell'Italia non meno che altrove furono confusi tra loro causa talune sinonimie vi fu in effetti un tempo in cui sia latini che umbri e ausoni e molti altri ancora furono chiamati dai greci Tirreni poiché date le distanze lo stanziamento di quei popoli non era chiaramente distinguibile per chi si trovava al di fuori io sono convinto in realtà che i nomi dei popoli cambiavano in quanto era anche lo svolgimento della loro vita a cambiare in quanto all'origine dei Tirreni e dei Pelargi io non penso che fosse la stessa per molti fattori ma in particolare per la diversità delle loro parlate e non riconosco in esse alcuna persistenza di una base comune incredibile Dionigi Tici conferma che ancora la sua epoca l'epoca di Augusto era possibile ascoltare un Etrusco e ascoltare qualcuno che parlava una lingua che poteva essere identificata come pelasgica cosa più difficile l'etrusco naturalmente si parlava ancora abbiamo iscrizioni bilingui latine ed etrusche Claudio sarà un grande etruscologo aruspici etruschi verranno a salvare Roma nel 410 dopo Cristo almeno ci proveranno e lui fa una verifica autoptica ascolta le lingue e dice non sono simili non è infatti pensabile che dalla stessa condizione iniziale procedano entrambe queste due conseguenze e cioè sia la conformità sia la diversità del linguaggio è ben vero che persone di uguale stirpe ma che stabiliscono i loro insediamenti in luoghi lontani fra loro non riescono più a salvaguardare la propria specificità linguistica causa la frequentazione delle genti vicine non è invece un discorso valido quello che invece tende a giustificare la discordanza linguistica tra persone stanziate nelle stesse regioni e aventi la stessa origine è come sentire Dionigi fare un ragionamento a bocca aperta e ce lo sta trasmettendo a distanza di secoli e su questo si sono cimentate generazione di studiosi ma non basta la sua analisi va a toccare etimologie, cultura materiale e quello che noi oggi definiremmo antropologia culturale proprio in base a questo criterio io sono convinto della diversità etnica esistente tra Tirreni e Belasgi e non penso neppure che i Tirreni siano coloni dei Lidi e qui va a sventire Erodoto non presentano infatti tra loro lo stesso linguaggio di nuovo né si può dire che pur non essendo più di lingua fine conservino almeno qualche ricordo della madrepatria non venerano neppure le medesime divinità dei Lidi né osservano leggi e costumanze simili sono anzi questi gli aspetti per i quali i Tirreni differiscono maggiormente dai Lidi che non dai Belasgi sono forse più vicini alla verità quelli che sostengono che i Tirreni non sono emigrati da nessun luogo ma sono invece un popolo indigeno poiché in ogni sua manifestazione presenta molti caratteri di arcaicità sia per linguaggio che per modo di vivere non lo si trova affine ad alcun altro popolo nulla poi vieta che i Greci li chiamassero con tal nome Tirreni i Romani poi usarono altre denominazioni ora con denominazione poco chiara li chiamano Tusci in quanto più anticamente con maggior proprietà li chiamavano Chiuescoi per la loro grande pratica di cerimonie relative ai culti divini in cui eccellevano sugli altri popoli Chiuo significa svolgere pratiche religiose quindi una pare etimologia era quella che vedeva nei Tusci delle persone particolarmente religiose essi in realtà danno a se stessi una propria denominazione derivata dal nome di un certo Rasen che era stato uno dei loro capi cosa c'è dietro questa complessa ricostruzione sulla quale ancora oggi si ragiona e si riflette e che immagino vi abbia fatto venire il mal di testa a seguire tutti i nomi, tutti i cambiamenti tutte le emigrazioni e che il mal di testa ha fatto venire agli studiosi che cercavano di raddrizzare tutte queste contraddizioni non c'è un fine ideologico dichiarato uno dei miei maestri Domenico Musti ha dedicato pagine importantissime all'analisi delle fonti e dei ragionamenti che ci sono dietro il testo di Dionigi c'è di fondo quella volontà che vi ho già evidenziato far apparire come greci i vincitori e come qualcos'altro gli sconfitti gli sconfitti però ancora vivi ancora lì a parlare la loro lingua ma una lingua così diversa che non poteva essere greca naturalmente doveva essere autotona e Dionigi non fa riferimento a quanto degli etruschi sia passato ai romani perché i romani devono essere greci così come i pelagi che non possono essere tirreni per lo stesso motivo invece noi oggi sappiamo quanto degli etruschi sopravvive nei romani vira quindi una forte impostazione ideologica in un autore greco vivente all'epoca di Augusto ma chi diavolo sono questi pelagi che si intrecciano nel nostro racconto? sono realmente esistiti o no? noi oggi conosciamo la verità sui pelagi salvo Giacobbo che ha sprecato intere trasmissioni sulle mura pelagiche sul loro mistero le leggende sui pelagi nascono sulla base di un'osservazione fatta da diverse persone nel tempo poiché ha generato delle conclusioni pseudostoriche se voi andate nel Lazio meridionale nella Ciociaria vedete tante città qui ne abbiamo parlato quando abbiamo presentato Alatri con mura poligonali non dissimili da quelle alla base di Atene da quelle di Micene da quelle di Tirinto da quelle che si possono trovare in tante parti del Mediterraneo le affinità fra queste mura che a volte ci avrebbero potuto spingerli anche a citare Machu Picchu se l'avessero conosciuta sono quelle che costruiscono l'idea di una popolo che solo può aver prodotto queste realtà come noi oggi facciamo pensando alle piramidi e paragonando una piramide messicana con una piramide egizia o con qualche altra piramide ma sono espressioni spontanee dell'artigianato e dell'intelletto umano legate anche alle pietre che sono disponibili che si prestano a quel tipo di architettura ma sulla base della diffusione di questa tipologia di mura si è cominciato a costruire leggende sui pelargi dove si vedevano mura di tipo pelargico o ciclopico dovevano essere passati i pelargi e man mano che se ne trovavano di nuove la diaspora dei pelargi si autoalimentava e germogliava perché non si aveva scrupolo nel dare una spiegazione a ciò che si vedeva qualcuno, un nonno, veniva interrogato dal nipote sulle origini della propria famiglia o della propria città e dava una spiegazione che poi magari si fissava all'interno di fonti e di testi tramandate e queste affinità hanno scosso tantissimo l'attenzione di studiosi di nuova generazione quelli che nell'ottocento sulla scia del positivismo speravano di poter svelare, di avere in pugno la storia del mondo e dell'umanità e non potevano disdegnare ciò che le fonti dicevano venivano considerate veritiere queste affinità pseudostoriche intorno alla metà dell'ottocento una serie di studiosi tedeschi abbastanza celebri come Theodor Momsen comincia a demolire quanto la tradizione raccontava mettendo in discussione tutte le leggende sulle origini di Roma e la veridicità dei testi omerici dell'epica di quanto per secoli si era andato stratificando proprio grazie alle contraddizioni interne a queste fonti al loro uso ideologico Tito Livio doveva sempre nascondere le sconfitte di Roma e farle passare come vittorie ed eredi di questa tradizione sono stati gli epigoni di Momsen fra i quali uno storico come Ettore Pais contemporaneamente l'archeologia cominciava a portare alla luce qualcosa di inaspettato Giovanni Cozzatini scavando in un terreno di sua proprietà nei pressi di Bologna a Castenaso a Villanova scopre un cinerario, un urna di questa forma che attrae la sua attenzione perché ne erano emerse altre di simili e non trovando un nome per definire la cultura che aveva espresso questi oggetti in un momento in cui la critica storica demoliva quanto le fonti raccontavano li chiama con il nome del luogo in cui sono stati trovati a Villanova di Castenaso da cui vasi villanoviani vasi che vennero trovati nei decenni seguenti a Volterra, a Tarquinia, a Cerveteri, a Vulci in tutti i luoghi dove in epoca storica gli etruschi avevano vissuto e andando ancora più indietro nel tempo si era notato che ancora prima vasi più arcaici appartenevano ad una cultura che non avendo altri nomi si chiamò Proto Villanoviana e che affondava le sue radici nell'età del bronzo così come quella villanoviana era l'età del ferro il confronto fra questi vasi e fra le carte di distribuzione di questi aspetti culturali mostrava incredibilmente una coincidenza della distribuzione di questi oggetti con le aree popolate in età storica dagli etruschi c'era quindi un problema c'era qualcosa che era coinciso con le zone in cui si trovavano gli etruschi secoli prima degli etruschi perché si era imparato che c'era un'età del bronzo, c'era un'età del ferro e poi vi era un'età storica e quindi quello che le fonti dicevano non tornavano e alcuni archeologi sulla base di queste osservazioni cominciavano ad avere il coraggio di dire la tradizione ci ha ingannati e quindi operare un'analisi critica analoga a quella condotta sulle fonti da Mopsen che retrodatava i tirreni, gli etruschi spingendoli in una fase che lasciava pensare che l'autoctonia fosse qualcosa di vero e che Dionigi di Alicarnasso avesse ragione e poi arriva un'autodidatta straordinario un commerciante che aveva sognato tutta la vita come molti dentisti oggi mi dicono di fare l'archeologo e lui l'aveva potuto fare diventando metafora dell'archeologo fortunato Schlima che scavò Troia dimostrando l'esistenza della città cantata da Omero scavò Micene arrivando a trovare quella che lui definiva la maschera di Agamennone ma allora questa diavolo di tradizione era vera o era falsa? alla fine dell'Ottocento queste diatribe, queste polemiche riempiono le pagine dei giornali e ci si litiga come oggi Tommaso Montanari litiga con Franceschini sulle pagine dei giornali rispetto alla riforma del Ministero ancora peggio ed era dominio comune questo tipo di polemica fra chi sosteneva che la tradizione aveva ragione e chi diceva che non la aveva pochi sanno, me ne sono occupato anche in una piccola monografia che si intitola La questione belagica, che Schliman venne chiamato ed invitato da quel Giustiniano Nicolucci che vi ho citato all'inizio per i crani etruschi ad Arpino a scavare le mura poligonali per dimostrare se quelle mura erano micenee o no, erano belagiche o no tutti nutrivano la speranza tra la fine degli anni 70 e gli anni 90 quando muore Schliman dell'Ottocento che potesse avvenire in Italia una scoperta come quella delle tombe micenee o di Troia anche nella nostra penisola e queste sono le lettere che Schliman scrive a Nicolucci dicendogli i risultati del suo scavo in pochi giorni aveva scavato, non aveva trovato nulla di interessante erano gli anni in cui gli veniva negato il rinnovo del permesso per scavare a Troia e Schliman aveva sognato, vaddiggiato di venire in Italia portare con sé le sue collezioni magari proprio a Napoli dove Nicolucci operava e cominciare a fare l'archeologo in Italia ma a breve verrà richiamato, tornerà a Troia, scaverà a Micene e si divertirà in questi stessi anni un gesuita erede di Kircher scrive tre poderosi volumi usciti come dispense prima sulla civiltà cattolica un testo di amplissima diffusione usciva ogni due settimane anticipava i frutti di un suo libro complicatissimo sugli etei pelasgi nel quale cercava da linguista qual era e da archeologo dilettante di trovare la quadra di trovare la soluzione dimostrando che i pelasgi dovevano essere interpretati come gli ittiti popolo di cui si cominciavano ad acquisire informazioni importanti grazie all'archeologia e che quindi le contraddizioni della tradizione potevano essere risolte interpretando un popolo come un altro e aveva tormentato Felice Barnabè che andava a fare le ferie a vicino Pistoia a Montecatini Terme si trovavano tutti i membri dell'intelligenza romana lì immersi nelle piacevoli terme romane a disquisire di pelasgi e ci sono lettere su lettere di De Cara a Barnabè quindi dice dai per favore Barnabè per chi non lo sapesse il signore che ha fondato questo museo il cui ritratto è pochi metri da noi per favore tu che sei così importante che hai un ruolo così importante nel ministero che puoi avere soldi disponibilità diventa lo Schliemann d'Italia svela il mistero delle origini dei pelagi che significava svelare anche il mistero delle origini degli etruschi questa è la copia del volume che De Cara donò nel 1894 questo museo esisteva da cinque anni a Felice Barnabè l'ho trovata su una bancarella a tre euro e la conservo religiosamente all'interno c'è un biglietto che lo esorta a fare queste scoperte Barnabè davvero ambiva a scoprire tutto questo e De Cara gli aveva indicato il giovane che lo poteva aiutare da pochi anni l'Italia disponeva di un luogo di formazione una missione in Grecia a Creta la scuola di Atene ancora non era nata sarebbe nata nel 1909 e insieme a Federico Albert giovani tra i più promettenti dell'archeologia italiana andavano in Grecia a formarsi sulle antichità greche ma a cercare di dotarsi degli strumenti con i quali avrebbero dovuto svelare il mistero delle origini dei pelagi perché era diventata una questione di vita o di morte una questione fortissimamente legata all'identità nazionale non si poteva permettere che fosse un francese o un tedesco a risolvere il problema della nostra origine era ritenuta una cosa nostra è come scavare nel nostro corpo nelle nostre case nei nostri giardini e questo giovane all'inizio della sua carriera era in stretto contatto con questo gesuita che oggi ci sembra un pazzo ma all'epoca era ritenuto uno studioso importante la sua opera si bruciò proprio per quello che sto a breve per dirvi e veniva raccomandato a Felice Barnabei come colui che avrebbe dovuto scavare e cominciò a scavare cominciò a scavare con questo scopo portando con sé l'esperienza di scavo e di esplorazione che aveva condotto a Creta dove aveva visto con i suoi occhi tombe micenee che gli sembravano molto simili a testimonianze che venivano ritenute coeve e che si trovavano in Italia proprio nei luoghi toccati dai Belasgi ma attenzione l'inganno è dietro l'angolo, i nostri occhi a volte ci ingannano se ci illudiamo che una cosa sia in apparenza simile ad un'altra e qui ci troviamo di fronte alle aspirazioni di un giovane, bravissimo archeologo che scrive ai suoi maestri con tutto l'orgoglio, con tutto il fremito che non mi sento fremere di voglia di fugare questo terreno che calpesto parla di Creta e naturalmente non poteva da italiano non sperare di compiere lo stesso miracolo anche in Italia a contendergli però questa possibilità, a contenderla in realtà a Barnabè lui era solo un giovane e vi era un altro protagonista, Luigi Pigorini fondatore di un altro museo recentemente reso autonomo in un'articolazione più ampia del museo delle civiltà Luigi Pigorini che a Roma contendeva a Felice Barnabè il controllo di quelle antichità dell'Italia preromana ed era tra i sostenitori di un'origine autoctona degli etruschi che sarebbero addirittura derivati dal centro Europa e avrebbero tratto le loro origini così come i latini dalla cultura del terra mare la cultura emiliana padana dove Pigorini aveva a lungo scavato come direttore del museo di Parma altra figura di spicco Edoardo Brizio professore a Bologna e direttore del museo civico di Bologna era invece tra i sostenitori dell'origine orientale degli etruschi e queste persone si dividevano e si contendevano in modo davvero straordinariamente attuale la soluzione di questo problema e l'archeologia fece un sacco di sorprese in quegli anni che sembravano porre in difficoltà le tesi di chi aveva lavorato per anni per smentire la tradizione da prima fu la mummia di Zagabria e la tegola di Capua a venire fuori il testo più lungo che si sia conservato in lingua etrusca ritrovato a Zagabria come panno riutilizzato per avvolgere una mummia vi dico oggi in anteprima che probabilmente presto lo avremo qui in un'esposizione la prima volta in questo museo una delle rarissime volte in cui è venuto in Italia la tegola di Capua di cui abbiamo una copia emigrata a Berlino perché ritenuta un falso il cippo del foro trovato alla fine del 1800 mi sembra 1898 da Giacomo Boni in scavi nel foro con un'iscrizione che diceva la parola rex e quindi dimostrava che contrariamente a quanto Monsenere aveva detto un re c'era stato a Roma e poi la stele di Caminia a Lenno una stele etrusca venuta in un'isola dell'Egeo e la tradizione legava i velazzi sembrava fatto davvero non rimaneva altro che trovare i resti della civiltà micenea in Italia e dove andarli a cercare? De Cara aveva le idee chiare bisognava andare a scavare a Norba sapete tutti vicino Ninfa vicino Sermoneta e Barnabè presenta al ministro Guido Baccelli uno straordinario progetto per la documentazione delle mura ciclopiche e per scavare Norba un progetto scientifico come quelli che lo avevano portato a costruire questo museo ma che non si verifica perché Barnabè poco dopo è impegnato in uno scandalo lo scandalo famoso come scandalo di Villa Giulia sul quale un giorno probabilmente vi racconterò qualcosa viene distratto, la sua vita scientifica viene messa in discussione e oggetto di una commissione di inchiesta presieduta da Pigorini suo rivale che ne bloccherà la carriera nonostante nel frattempo sia stato nominato deputato al Parlamento e quindi eletto. Negli stessi anni Luigi Ceci un importante glottologo originario di Alatri fa una serie di testi, siamo nel 1901, un discorso inaugurale tenuto all'Università di Roma sulla storia della civiltà italica, nello stesso periodo Lucio Mariani compie una relazione prendendo la cattedra all'Università di Pisa sulla questione etrusca era vicinissima la soluzione e la soluzione doveva arrivare attraverso l'archeologia Ceci si interroga su come mai vi sono persone che ritengono non veritiere le tradizioni sui pelasgi non è possibile, di tutte le altre popolazioni si dà attendibilità, solo i pelasgi sono trascurati e incoraggia un'attività di ricerca che doveva in un certo senso risolvere sia la questione degli italici pelati che la questione dei tirreni. Ci mette lo zampino Pigorini che approfittando della distrazione di Barnabè riesce a sottrargli quel progetto che aveva presentato al Ministro Baccelli e sarà lui a scavare con due colleghi, con un collega coetaneo di Mariani Savignoni insieme ad un famoso archeologo Mengarelli noto per gli scavi a Cerveteri che nel 1901 cominceranno a scavare a Norba e cosa scopriranno scavando sotto le mura poligonali? Che nulla vi era di inceneo, che quelle mura erano romane, che tutta Norba doveva risalire a età romana. E' uno shock. De Caro in quegli stessi anni ha pubblicato il terzo e l'ultimo volume della sua opera morirà dimenticato presso Grotta Ferrata così deluso ma ancora convinto della validità delle sue idee. Pigorini non contento fa in modo che la cosa diventi ancora più eclatante. Nel 1903 a Roma si organizza il congresso internazionale di scienze storiche. Erano eventi dove ai quali anche il re e la regina partecipavano e venivano studiosi da tutto il mondo per quell'occasione a confrontarsi. Vedete immagini tratte da riviste illustrate dell'epoca. Per intenderci nel 1902 Momsen riceve il premio Nobel per la letteratura e l'unico premio di questo tipo dato ad un antichista e alla sua morte in quel 1903, pochi mesi dopo il congresso storico, la sua immagine apparirà su una delle riviste più diffuse in Italia, l'illustrazione italiana. Questo per intendervi come i tempi non siano affatto cambiati, immagini. E scoprire, dimostrare a tutti quegli studiosi qual era la verità sulla questione pelagica, era troppo ghiotto. Tant'è vero che Pigorini organizza uno scavo durante un banchetto a Norba per far vedere a studiosi di tutto il mondo dove era la verità. E la verità è che le mura pelasgiche erano romane e che l'archeologia produceva uno shock contraddicendo la tradizione. Ma siamo nel 1903-1904. Il mistero delle origini dei pelasgi e degli etruschi l'archeologia l'ha risolto da più di cento anni. E nonostante questo però ancora oggi rimane sui libri perché effettivamente bisogna spiegare quella stele di Caminia all'Emno, bisogna spiegare la diffusione di resti etruschi nel Mediterraneo. Ma sono commerci, sono contatti, sono scali portuali come a Delfi ed era un donario ceretano e spinete così a Caminia poteva esserci una colonia, un insediamento di etruschi. La soluzione ce lo dà il Signore con cui abbiamo cominciato, Massimo Pallottino, che da uomo di destra aderente anche al fascismo tuttavia scrive quello che è il germe del suo più famoso manuale Etruscologia che nasce come uno dei testi organizzati durante la mostra della Romanità quella che è alle origini del tanto amato Museo della Civiltà Romana che in questa sede alcuni miei abbonati si lottano strenuamente perché riapra e io sono con loro. Lo fa in quel contesto mettendo le basi di quella che è una interpretazione tanto semplice quanto vincente che io vi ho già anticipato durante l'introduzione a questo ciclo di conferenza il concetto di formazione. Nessuno di noi oggi si chiede quale sia l'origine degli italiani o dei francesi. Che cosa rispondereste voi ad una domanda di questo tipo? Nulla! Per gli italiani dovreste dire etruschi, latini, italici, romani, angioini, saraceni, normanni e chi più ne ha più ne metta. Per i francesi più o meno lo stesso. I popoli si formano nel corso del tempo. Ancora oggi noi siamo in formazione. Il nostro DNA è tutta una storia di formazioni e di contaminazioni. E il DNA è quello con cui ci abbiamo a concludere perdonatemi se vi ho rubato più del tempo che vi avevo promesso ma la lezione di oggi era davvero la più complicata di tutte e non potevo interromperla senza darvi qualche elemento in più su questo mistero degli etruschi. Ancora oggi noi, e qui facciamo davvero un salto che può stupirvi, arriviamo alla contemporaneità dopo essere passati dal pallottino degli anni trenta. Ogni tanto leggiamo sui giornali che il mistero degli etruschi è stato svelato, solo che adesso entrano in gioco altre fonti, altri documenti che essendo biologici, essendo scientifici sembrano superare qualunque gap e qualunque problema. Pochi anni fa, nel 2007, arriva la conferma alla tradizione erodotea. Analizzano le vacche pianine, una serie, insomma, vacche tipiche di regioni che sappiamo essere popolate dagli etruschi e riscontrano che effettivamente hanno delle affinità con analoghe vacche della Turchia. Erodoto, quindi, aveva ragione. Etruschi è un DNA medio orientale. Se le vacche sono di origine orientale, ma anche quelli che l'hanno portate devono avere la stessa origine, quindi immaginiamo un bastimento carico di vacche e di persone che emigra quando Erodoto ci dice che emigra, però di vacche non ci aveva parlato, c'era la carestia, invece con le vacche sarebbero partite. E anche la vite, l'analisi di resti faunistici antichi e moderni sembra dimostrare questa origine orientale. Peccato che nel 2013 un altro studioso, sempre italiano, DNA smentisce Erodoto, questa volta ad essere analizzato il DNA di città come Murlo, Volterra, che dimostra che invece gli etruschi non venivano dalla Natalia, ma erano autoctoni. E Barbujani, da anni impegnato in questo tipo di ricerche, che ce lo dice. Lui era di Ferrara, io all'epoca ero a Ferrara e mi ricordo lo scalpore sulla cronaca nazionale, ma anche su quella locale, risolto il problema a favore della tesi di Dionigi di Aliparnasso. Dov'è la verità? Dov'è la verità? Il DNA è la soluzione? Questa è un'immagine che mostro spesso. L'antropologia culturale ci aiuta, oltre all'archeologia, a risolvere il problema ragionando oltre i nostri preconcetti, immaginando la realtà, non come siamo abituati a immaginarla, perché noi abbiamo dei sensi, abbiamo delle esperienze che ci guidano nell'interpretazione. Il fatto che noi abbiamo due mani ci dice che una persona che ce ne ha una sola è anormale rispetto a noi. Di nuovo il tema della disabilità del 3 dicembre, che vi invito di nuovo a tornare fra di noi. Noi ragioniamo col nostro sistema percettivo. Io ho gli occhi azzurri, da ragazzo ero biondo, sono un ariano, rappresento la razza ariana e chi non lo è rappresenta un'altra razza, un cinese è così, per motivi genetici, per motivi culturali. La lingua è davvero un qualcosa che si lega con l'etnos. L'etnos, i confini, le frontiere, sono costruzioni culturali e come tali sono plasmate dalle ideologie, plasmate anche dalla storia nel suo essere, conseguenzialità di fatti o casualità di fatti. Friedrich Barth è l'antropologo che ci ha insegnato a ragionare sul concetto di frontiera e lo ha fatto lavorando su culture che frontiera non ce l'hanno perché sono nomadi, come i pelasgi. Sono un popolo i pelasgi o no? Qual è la loro frontiera? Parlavano una lingua di Onigi di Alicarnasso, la ascoltava ancora nell'età di Augusto. Di Zingari sono un popolo o no? Hanno una loro lingua ma non hanno una frontiera, non hanno una nazione. Su questo dobbiamo ragionare. Lui ha introdotto il concetto di identità contrastiva. Noi costruiamo la nostra identità e quindi di conseguenza anche l'identità collettiva sulla base di un confronto con un modello che siamo noi. Io mi identifico come essere umano, Rasenna significa probabilmente uomo, come fra gli indiani del Nord America alcune tribù si definivano il popolo degli uomini e definisco chi è uomo a partire dall'idea che ho di me. Per contrasto, chi è diverso da me non è uomo o è altro o ha un altro nome naturalmente. Però la storia ci insegna di come i popoli siano diversi. Viene fatto questo esempio in un bel libro sull'etnicità di Hall, un archeologo inglese o americano, non ricordo, che ci fa riflettere su come un etnos, una cultura, sia il portato di tanti elementi. Si può parlare una lingua, ci si può vestire in un determinato modo, si può abitare in una determinata casa. Ma questo non significa niente, queste tre modi di rappresentarci possono avere origini diverse, come questo brano esemplifica. E nel nostro ragionare sulle origini non siamo molto diversi da quello che vi ho detto prima di Dionigi di Alicarnasso. Abbiamo bisogno di un nome collettivo, di un mito delle origini comune, di una storia condivisa, di una cultura distintiva condivisa, l'associazione a un territorio comune, un senso di solidarietà reciproca. E' questo che poi porta a distruggere Palmira o ad abbattere i resti archeologici conservati nel Museo di Mossul. Perché si sente come diverso, non appartenente e lo si cancella. E allora a questo cerchiamo di fare attenzione. Noi archeologi avremmo uno strumento importante per migliorare la nostra società, facendo capire come ci cingiamo noi stessi di confini rispetto agli altri. I confini non sono le Alpi, ma l'idea delle Alpi che noi abbiamo. I confini una volta potevano essere gli appennini, oggi non lo sono più. Il confine dentro la nostra testa e a volte è un limite più che una delimitazione oggettiva. E questo ce lo insegna Remotti che vi ho già letto e che vi rileggo. I confini dunque effettivamente esistono, ma esistono in quanto vengono istituiti, imposti, tracciati dalle varie società nei loro tentativi di differenziarsi le une rispetto alle altre. In altre parole, i confini esistono, ma non preesistono alle società e ai loro tentativi di identificazione. I confini esistono in quanto sono preceduti dai contatti, scambi e comunicazioni tra le società e le culture. Il dato di fondo sono i contatti. I confini sono invece i modi con cui regolamentare i contatti e impedire che una comunicazione eccessivamente intensa e scambi troppo frequenti finiscano per porre in forze l'identità sociale. Noi costruiamo i nostri confini intorno a noi nel momento in cui abbiamo il timore che questi confini siano minacciati. fino a un momento prima non avevamo ragionato sulla nostra identità e come il confine di una nostra proprietà privata che diventa forte e consistente nel momento in cui viene minacciata da un fuoco, da un furto o da altro. I confini non delimitano dall'esterno lo scambio e la comunicazione, bensì sorgono da questi stessi fenomeni e più precisamente come risposta ai problemi dell'identità sociale e culturale che i fenomeni dello scambio e della comunicazione porgono di continuo. Io trovo queste frasi volutamente ripetitive splendide. Il mistero delle origini degli etruschi, della loro storia, della loro identità è risolto dalla frase di un antropologo che ha lavorato per gran parte della sua vita tra i banande del Nord Kivu nel Congo, popoli che noi oggi potremmo definire sinteticamente come primitivi ma che a volte sono più evoluti di noi. Questa è l'ultima slide. Avete visto prima come noi, per effetto del positivismo, i nostri libri di scuola sono ancora pieni di queste immagini organizziamo la cultura spesso come alberi, con una radice da cui si ripartono rami che servono un po' a sistematizzare le nostre conoscenze sull'evoluzione biologica dell'uomo, sulla lingua, sulle trasmigrazioni dei popoli. L'albero della vita genera eternamente rami nuovi e la sua attività fondamentale consiste esclusivamente nel dar vita a nuove ramificazioni a parte il fatto di lasciar cadere i rami morti. L'albero della storia umana continua invece a ramificarsi e nello stesso tempo a fondere di nuovo insieme i propri rami. Ricostruire il suo disegno è pertanto cosa molto più complessa e difficile. Persino i suoi modelli di base possono, entro certi limiti, fondersi gli uni negli altri il che è in contrasto con ogni esperienza del regno organico, quello biologico, puro e semplice dove i modelli sono praticamente irriversibili nella misura in cui sono fondamentali. In basso a sinistra l'uomo che ha scritto queste frasi, l'allievo di Franz Boas, il fondatore della moderna antropologia culturale. Nella sua vita ebbe un'esperienza unica, quasi paranormale, incontrare l'ultimo uomo primitivo vivente che è quell'uomo accanto a lui sulla destra. Era un indiano, l'ultimo sopravvissuto indiano del Nord America ci troviamo nella San Francisco dell'inizio del Novecento. Si trova improvvisamente a emergere in una cittadina dell'entroterra della California, nudo, spaurito, parlava una lingua che nessuno era in grado di capire si capiva tuttavia che era un indiano. Chiamano degli altri indiani per aiutarli come interpreti e la lingua che lui parla è una lingua incomprensibile per tutti. Dopodiché con un po' di fatica trovando delle analogie linguistiche riescono a ricostruire un po' della sua storia ma la ricostruiscono anni successivi, addirittura è la moglie di Alfred Kreber a ricostruirla grazie all'archeologia, perché questo indiano viene portato all'attenzione di questo antropologo che lo porta con sé presso il nascente museo etnografico di San Francisco. Viene accolto, ospitato in quella casa e studiato. Cominciano a registrare quello che lui diceva, trascrivere la sua lingua, cercando di codificarla così come potevano e lo invitano a costruire manufatti che diventeranno un modello per quella che sarà l'archeologia sperimentale e saranno una chiave per ricostruire l'origine di quella persona viva davanti a loro. Il modo in cui faceva le frecce aiuta a capire la zona da cui proveniva e poi quando cominciano a costruire un nesso comunicativo lo portano anche nelle terre da cui lui proveniva ed emergono storie di eccidi, di distruzioni, di come è stata ammazzata e violentata sua madre, sua sorella di come questo gruppo di uomini, ormai una decina, si sia estinto senza lasciare traccia. Non impareranno mai il suo nome perché era tabù rivelare il suo nome. Ishi Loiai è il nome con cui è noto, il nome della sua tribù e della sua terra di origine. È una storia straordinaria che è diventata quasi un romanzo e che è stata in parte raccontata in alcuni film. Questo uomo morì due anni e mezzo dopo il suo arrivo nella civiltà. Fu per gli americani di quegli anni come vedere improvvisamente riemergere dal nulla un uomo del paleolitico, confrontarsi con un passato, con una lingua che non capivano e che non aveva alcun collegamento e nessuna ramificazione. Una lingua così complessa che cambiava a seconda se l'interlocutore fosse un uomo o una donna. È diventata la base degli studi sulle lingue di Shapiro e di grandi antropologi americani del Novecento. Un uomo vissuto nella modernità due anni e mezzo di cui non conosciamo il nome perché non ce l'ha voluto dire e non gliel'hanno estorto in alcun modo che per anni è stato esposto in un museo ed è diventato l'attrazione di quel museo. Infatti il titolo del romanzo è l'Indiano in un museo o qualcosa di simile. È una storia davvero poetica che spero in futuro, in un altro ciclo di conferenze, di potervi raccontare, ma che ci svela quello che spesso noi per primi perdiamo dell'umanità che è fatta di persone reali e non di cose. Grazie. Per premiare i figoni a bisogno abbiamo anche degli attestati. Se vi occorrono, siccome i musei sono centri di formazione e di ricerca, qualcuno di voi potrebbe spenderli, naturalmente non siete tenuti a richiederceli se non vi servono, infatti li abbiamo fatti in modo di utilizzarli anche nelle prossime volte e spero che magari vogliate coinvolgere studenti universitari o qualcun altro che di questo potrebbe aver bisogno, però se li volete sono a vostra disposizione e dobbiamo soltanto compilarli negli elementi che mancano. Grazie.